Ciao a tutti ragazzi sono Ed e benvenuti in questo nuovissimo video dei survival games Siamo qua negli SG solo e la webcam c'è solo perché il fottutissimo microfono mi si è rotto E quindi niente, devo fare così per registrare un audio Ho detto a sto punto metto anche la webcam, tanto chi se ne frega, tanto ho spazio sull'iPad Io ragazzi veramente non ho più parole per definirmi la mia sfiga con gli aggeggi elettronici Perché io adesso ho avuto le cuffie LifeChat e le X3000, sapete quelle che avevo prima Mi si sono rotte subito le cuffie, in realtà vabbè la prima volta mi si è rotto perché ho sbagliato io Ho fatto una stronzata praticamente le ho rotte io Però la seconda volta quando le ho prese, quando ne ho riacquistate altre perché mi ero trovato bene Si sono rotte le cuffie, il microfono andava con le nuove cuffie che avevo preso Quelle non mi ricordo come si chiamano Quelle nere e blu Andavano le cuffie ma non il microfono Poi si sono rotte anche le cuffie però Queste qua andavano le cuffie, andava il microfono Sono andato in vacanza, si è rotto tutto Non ho capito come, non ho capito perché, non ho capito se l'ho rotto io Perché da quanto ho capito non mi pare perché non ho fatto niente Ma qua c'è qualcuno Tutto il cazzo di fare rumori C'è nessuno Io giuro su me stesso che non ho fatto niente Cioè non ho toccato il microfono in vacanza È rimasto sempre lì Devo stare soltanto con le cuffie Ora mi saranno cadute due volte, ok? Io sono una persona che ogni tanto fa stronzate Anzi quasi sempre Con le mani faccio cadere roba Però Cioè questo non Non giustifica il fatto che Vaffanculo Vabbè Forse ho avuto soltanto sfiga oggi E magari domani le prove vanno bene però Non capisco perché appunto non c'è il microfono Ehi là Madonna Magica click Cristo Non mi gitter click Ancora la prima partita della giornata Ieri sono tornato E ora ho giocato senza registrare E non ho vinta una Sui solo Sì siamo sui solo Non l'ho detto però Perché mi hanno rotto veramente il cazzo i team Tra l'altro ho scoperto che i solo Hanno I server da 24 Io li vorrei giocare per fare partite in più giocatori Però Il problema è che Non c'è mai nessuno Tutti vanno in questi Da 12 Il problema è che i solo sono Siamo in pochi sui solo Perciò Non puoi comunque giocarli perché Ieri Ho giocato uno da 24 Che poi in realtà l'ho giocato in 12 Però Era Era da 24 Una coincidenza assurda Vabbè però Però era una volta sola Che mi è successo Il resto delle volte Sempre Da 12 Anche perché Siamo andate a vedere Cioè voi stessi Ci sono soltanto Due Tre lobby attive Forse anche di meno Però siamo in 5 Qui adesso E in 5 potremmo provare a A vedere se c'è uno dietro E là Tu E killati Madonna muori Cosa What What the fuck Perché Non ho capito perché Forse che ha lasciato What Beh Non capisco meglio per me Però Non erano in team Spero Ma Cioè siamo usci solo Vado a dire Fare team usci solo Mi sembra abbastanza stupido Anche perché è bannabile Sì Non c'è mai nessuno Però Oh c'è uno là Ma Cosa sta facendo Ma sta saltando Sì Madonna Sì Fermo Fermo Decido io se farti saltare o no Vabbè tanto Non ci arriva sopra Finché Lo tengo da Scusate ovviamente per l'audio Che non è Di alta qualità Però Non posso fare niente Perché Purtroppo qua mi Oh Vodevi eh Madonna Vai via Cosa No Cadi proprio Giù Allora Facciamo sta cazzo Di spalla di ferro Dio bon E qua Me devo incazzare Adesso arriva uno dietro E mi kill Guarda L'ultimo che è rimasto Ma tra l'altro Scusa È ancora lì Adesso è ancora lì È comica la cosa No se n'è andato Se n'è andato Va bene Eh vabbè Abbiamo anche la Gappold Quindi Possiamo provare A giocarcela per bene Eh Purtroppo Non abbiamo molto Vabbè Allora Lasceremo le lalue qua Va via questo Mangiamo La bistecca Che Sì Sì Grazie per un po' La golden apple La userò a dovere Non abbiamo modo Per fare acciarini Purtroppo Non abbiamo acciarini Però Dai Abbiamo abbastanza Robbe buone Perché ho fatto Sta strozzata Ora non recupererò mai I cuori Perché No Che fa che Stronzate Allora facciamo così Dai Ci mangiamo la Gappold Subito così Tanto comunque L'avrei dovuta mangiare Perché mi dimenticavo Che sulle MCSG I cuori Si rigenerano In maniera Stupida All'attacco E sei morto 9 cuori e mezzo Vabbè Sarebbero tutti 7 e mezzo Vabbè L'ho vinta La prima della giornata E purtroppo Con questo audio Perché non posso fare altro Perciò Io vi saluto E vi do appuntamento Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti